La piazza medioevale Quella che oggi chiamiamo Quarta Rivoluzione Industriale segue uno schema analogo. Maggiore è il flusso di informazioni che si incrociano tra loro e più grande sarà la possibilità di sviluppare nuove conoscenze e nuove competenze. Su questa antica e moderna consapevolezza si fonda la visione che ispira la realizzazione del Polo di Eccellenza Digitale di Reggio Emilia presso il Parco Innovazione, una realtà plurale dove la diversità diventa ricchezza. Così, la silente sede delle officine meccaniche reggiane torna alla vita come nuova fabbrica delle competenze digitali. Laboratori, centri di ricerca e imprese operano da tempo nel Tecnopolo per dare vita alla ricerca avanzata e al trasferimento tecnologico. La memoria del luogo ispira ogni giorno l'abilità innovativa delle aziende industriali e digitali che vivono già questi spazi, alle quali si uniranno imprese specializzate, ordini professionali e servizi. Al loro fianco sorgeranno il quarto polo universitario della città con nuovi corsi di laurea per la formazione applicata della cultura digitale. E un incubatore di nuove imprese spin-off universitari, che qui troveranno un ecosistema propizio all'ingenerarsi dell'innovazione. Una realtà arricchita dai nuovi servizi avanzati del distretto digitale di Reggio Emilia, pensati per accompagnare le imprese ad affrontare le sfide connesse a Industria 4.0. Il polo di eccellenza digitale di Reggio Emilia come grande innovazione di sistema, indispensabile per ancorare la Via Emilia e la Regione Emilia-Romagna al mondo. Il polo di eccellenza digitale di Reggio Emilia-Romagna al mondo.